Servizio buone vacanze per tutti, abbattendo ogni genere di barriera, permettendo concretamente l'accesso al mare in spiaggia e diversamente abili. Questo è l'obiettivo dell'amministrazione comunale di Barletta, che ha deciso di donare tre sedie job ai responsabili cittadini dell'Unitalsi e dell'Aias, con l'impegno da parte dei responsabili di mettere a servizio tali particolari attrezzature per coloro che ne faranno richiesta in spiaggia. La consegna delle tre sedie job è avvenuta presso la sottosezione barlettana dell'Unitalsi. Lieti e soddisfatti per il nobile gesto di solidarietà e sensibilità Amalia Cilli, coordinatrice dell'Aias, e Ruggero Morelli, presidente Unitalsi. Noi adesso prendiamo in carico queste sedie, ma è ovvio che le metteremo a disposizione di tutti i cittadini che ne dovessero fare richiesta e avere bisogno per le loro esigenze, per poter entrare finalmente in acqua senza problemi, perché noi sulla nostra pelle abbiamo vissuto in prima persona questo problema. Tante volte ci è capitato di andare in spiagge non attrezzate, senza passerella, quindi siamo stati costretti a portare le carrozzine sulla battigia a mano, spingendole a mano, e poi fare tutte le operazioni per entrare in acqua completamente a mano, senza l'ausilio di nessuna sedia a job. Finalmente adesso possiamo fare tutto quanto senza problemi e senza difficoltà, quindi grazie ancora all'amministrazione comunale. L'amministrazione barlettana è vicina e diversamente abili, coniugando i progetti relativi alle politiche sociali con fondi regionali, ha evidenziato il vice sindaco Marcello Lanotte. Le spiagge comunali, quindi le spiagge pubbliche, sono dotate di passerelle di accesso, chiaramente non tutte, ma almeno tre hanno questa dotazione, che altrimenti renderebbero queste sedie a job inutili. Il ringraziamento particolare va fatto alla macchina amministrativa, al settore dei mani a patrimonio, che nel giro di 48 ore di fatto ha organizzato questa concessione di queste sedie a job. Noi confidiamo che questo patrimonio possa essere custodito da parte di tutti i cittadini, affinché attraverso queste associazioni, che per noi rappresentano un fiore all'occhiello, un elemento di indispensabilità, che consente a noi di essere più efficaci nel sostegno delle politiche a favore della disabilità. Quindi un'idea firmata dall'amministrazione comunale, con fondi anche dall'amministrazione comunale? Un'idea che è stata portata avanti fortemente dall'amministrazione Cannito e che di fatto ha ricevuto queste sedie a job da finanziamenti regionali. E quindi la sinergia tra le istituzioni a sostegno di chi ha più bisogno. A rendere felici le vacanze degli amici dell'Unitalsi ci hanno pensato anche i soci dell'Anmi e di altre associazioni, con varie iniziative. Per agosto abbiamo una programmazione del tipo più balneare, più estiva. Noi cominceremo domenica prossima in collaborazione con l'Anmi di Barletta. Faremo una uscita a mare con le loro barche, quindi devo dire grazie ancora una volta all'Anmi. Poi avremo tre giorni dove faremo una vacanza insieme ai nostri amici disabili, presso una struttura nei dintorni di corato, con piscina, insomma tutto quanto bene organizzato e attrezzato. Per poi continuare magari faremo qualche uscita a mare, perché no, utilizzando proprio queste sedie a job.